È nella top 10 degli scrittori più tradotti al mondo e le sue fiabe sono state amate da generazioni di bambini e adulti per oltre 150 anni. Lo conosci da La Sirenetta, Il Brutto Anatroccolo, Pollicina, La Piccola Fiammiferaia e un sacco di altre grandi fiabe. Sai di chi sto parlando, vero? Lo scrittore danese Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen nasce il 2 aprile 1805 a Odens, in Danimarca. Fin da piccolo mostra immaginazione, si entusiasma per le opere di Shakespeare e costruisce un piccolo teatro di marionette, cucendo anche i vestiti per i suoi burattini. E anche se non è molto bravo a scuola e trova difficoltà perché ha la dislessia, inizia a scrivere storie quando era ancora uno studente. Quando ha 11 anni suo padre muore e Hans deve lasciare la scuola e iniziare a lavorare in una fabbrica di sigarette. Le avversità della vita non lo dissuadono e Andersen raggiunge il suo primo vero successo nel 1833. Come ricompensa riceve una borsa di studio per viaggiare all'estero e così inizia per la prima volta a viaggiare in Europa. Questo diventa uno dei suoi passatempi preferiti e anni dopo dirà la famosa frase viaggiare è vivere. I viaggi di Andersen diventano anche una fonte di ispirazione e così nel 1835 pubblica la prima parte della sua raccolta di fiabe tra cui la principessa sul pisello. Due anni dopo pubblica la terza e conclusiva parte che comprende le fiabe i vestiti nuovi dell'imperatore e la sirenetta. Le fiabe di Andersen sono ben lontane dalle fiabe dell'epoca che avevano lo scopo di insegnare la morale ed educare. Le storie dello scrittore danese sono molto diverse e innovative e per questo attirano molte critiche anche da parte di altri scrittori che lavorano nello stesso periodo. Tuttavia i racconti non solo divertono i bambini ma col tempo diventano le loro opere preferite e anzi oggi sono tradotti in più di 125 lingue. E mentre le storie che escono dalla penna dell'autore sono favole la sua vita è tutt'altro. Cresce in povertà e dopo la morte del padre la sua vita diventa ancora più difficile. Inoltre Andersen è spesso deriso per il suo aspetto e la voce insolita. Questo lo fa sentire isolato ed emarginato. Una sensazione che in seguito ricrea nella fiaba il brutto anatroccolo. Anche in amore Andersen non ha fortuna. Si innamora diverse volte ma i suoi sentimenti non vengono corrisposti e non riesce mai a vivere la sua favola. Le sue esperienze personali ispirano la storia della sirenetta che nella sua forma originale non ha un finale particolarmente felice. Nell'originale diversamente dalla trama che conosciamo tutt'oggi dove la sirenetta e il principe vivono una vita felice il principe sposa un'altra donna e la sirenetta si trasforma in schiuma di mare. Come ti ho detto all'inizio Andersen ha molti altri talenti oltre a scrivere fiabe. Per esempio scrive poesie, romanzi e racconti. Fa bellissimi ritagli di carta, canta e si diletta nelle arti teatrali e come molti altri artisti ha le sue stranezze. Ha la fobia di essere sepolto vivo ed è per questo che ogni notte lascia un biglietto vicino al suo letto che dice sembro solo morto. Ha anche paura dei cani, non mangia maiale per evitare di contrarre un parassita della carne e porta sempre con sé una corda quando è in viaggio per potersi salvare in caso di incendio. Quando è ancora in vita lo scrittore è dichiarato patrimonio nazionale della Danimarca e la sua prima statua è eretta in occasione del settantesimo compleanno. Con il tempo statue sue e dei suoi personaggi sono spuntate nelle città di tutto il mondo e strade e istituzioni di tutto il mondo sono intitolate a lui. Persino il premio di letteratura per bambini, noto anche come il piccolo premio Nobel, ne porta il nome. Hans Christian Andersen muore il 4 agosto 1875 lasciando un'enorme eredità letteraria. Attraverso le sue opere cambia il modo di vedere le fiabe per bambini e costruisce mondi magici da cui i bambini possono trarre ispirazione per le loro avventure. Come dice lui stesso la vita è la favola più bella.